Oggi siamo all'inaugurazione di questa nuova entità della nuova fondazione Visit Gabice che raggruppa per la prima volta nel nostro territorio tutti gli operatori economici, quindi albergatori, bagnini, ristoratori, commercianti e bar. Ci sono tutte le eccellenze del nostro territorio che con il supporto dell'amministrazione comunale porteranno avanti un unico obiettivo, quello di rendere Gabice Mare una città sempre più bella e sempre più accogliente. A Gabice Mare mancava una realtà che facesse un pochino da collettore di tutte quelle che sono le attività che vengono realizzate tutti gli anni sul nostro territorio, serve un'entità che faccia una programmazione di promozione territoriale per la nostra destinazione, che abbia una visione a lungo termine e per questo noi albergatori insieme ai commercianti, insieme agli bagnini e insieme ai ristoratori di Gabice Mare ci siamo messi insieme e abbiamo costituito questa nuova fondazione affinché questo sogno diventi realtà. In cantiere l'estate è già iniziata con tanto entusiasmo, molto caldo, una grandissima energia positiva e alle porte il grandissimo evento dell'estate 2022 disco diva che chiuderà il mese di giugno, il 24, 25, 26 di giugno con artisti internazionali. Quindi ci sarà da divertirsi, un'estate meravigliosa grazie anche alla fondazione Visit che ci aiuterà a renderla ancora più pratica, più puntuale e più concreta nei servizi che possiamo offrire ai turisti.